Pensioni, istruzioni per l'uso, come mai la scelta di questo titolo? Perché le pensioni sono una materia complessa, una materia che è necessario conoscere sia a livello individuale per capire quelli che sono i propri diritti, le proprie aspettative, ma anche perché le stesse aziende hanno necessità di conoscere le prospettive in questo campo dei loro lavoratori per dialogare meglio e soprattutto per gestire la propria attività. Perché soltanto chi conosce le prospettive che in ambito pensionistico sono oggi a disposizione dei lavoratori riesce a programmare la propria attività rispetto a quel fattore essenziale che è il fattore risorsa umana. Perché la risorsa umana è un bene prezioso per le aziende e più informazioni le aziende hanno per gestire questo loro ambito di attività sicuramente migliore sarà il rapporto con le parti che rappresentano i lavoratori e più lucida sarà la prospettiva futura di organizzazione della propria attività. Quindi potremmo dire un'ottica di snellire quelli che sono gli approcci anche al futuro? Sicuramente sì, perché oggi un'azienda con un numero di lavoratori piccolo o grande, la differenza poi è chiaramente dimensionale, fa fatica a capire quando il lavoratore uscirà dall'azienda per pensionamento. Questo ovviamente prescinde dalla scelta personale singola di uscire. Fa fatica perché il mondo delle pensioni è troppo complesso oggigiorno. La produzione normativa è veramente nell'ultimo periodo importante, numericamente notevole. Molte sono state le deroghe ultimamente alla rigidità della riforma Fornero, quella rigidità che è stata coartata dalla situazione economica in cui ci trovavamo, ma che ovviamente ha comportato l'allungamento in maniera significativa dell'uscita dal lavoro di veramente un numero importante di lavoratori. Le aziende oggi fanno fatica, così come i lavoratori singoli, a capire quando questo momento di uscita dal lavoro avverrà e in che contesti. Perché è importante parlare oggi di una cultura previdenziale, di una vera e propria cultura previdenziale? È importante oggi e ormai da molti anni, non è soltanto oggi importante parlare di cultura previdenziale, proprio perché non vi è la consapevolezza, noi lo riscontriamo in tutta l'attività che in questo senso facciamo, non vi è oggi la consapevolezza di quanto sia complesso il sistema che regola l'accesso alla pensione e soprattutto, questo non è di interesse delle aziende, ma di interesse dei lavoratori singoli, quanto sia il cosiddetto coefficiente di trasformazione, cioè quanto sia la pensione che il lavoratore andrà a percepire al momento dell'uscita dal lavoro, che con il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo chiaramente è diminuito nel tempo. Che ruolo ha l'Inps nella diffusione della cultura previdenziale? Beh, l'Inps sicuramente ha un ruolo importantissimo, direi cardine, perché diffondere la cultura previdenziale è una delle nostre mission. Noi da diversi anni stiamo veramente percorrendo questa strada, perché siamo consapevoli che è l'unica strada da percorrere perché può essere utile sia al cittadino singolo che al cittadino nelle sue forme aggregate, le aziende come realtà primaria a fianco del cittadino singolo. È importante, noi facciamo molta attività in questo campo, lavoriamo con le scuole per esempio, la direzione regionale Inps del Veneto sta lavorando da anni con le scuole, noi mandiamo i nostri formatori in accordo chiaramente con le scuole a fare degli interventi calzati sull'età dei ragazzi, ci rivolgiamo ai ragazzi degli ultimi anni, degli ultimi tre anni dei licei e degli istituti professionali, perché abbiano consapevolezza di quello che sarà il loro ingresso nel mondo del lavoro, perché sia un ingresso corretto, fatto nel rispetto delle regole, perché i giovani non hanno un bagaglio di nozioni tali da renderli solidi nell'accesso al lavoro e noi cerchiamo di fornirlo. Di contro lavoriamo anche con associazioni di lavoratori, chiaramente patronati e tutti coloro che tutelano il lavoratore singolo, per esempio con i patronati abbiamo un rapporto molto stretto, collaboriamo con loro in attività formative e con le aziende sicuramente, con le associazioni di categoria delle aziende, con chi rappresenta le aziende, i consulenti del lavoro, i commercialisti, anche qui collaboriamo. Spesso dal fronte aziende, così come rappresentato, quindi associazioni di categoria, consulenti commercialisti, ci viene la richiesta di rappresentare il mondo dei flussi contributivi, della contribuzione, del corretto versamento dei contributi. In realtà iniziative come quella di oggi, dove l'azienda ci chiede di parlare del mondo pensionistico, sono iniziative rare ma molto importanti, nel senso che noi riteniamo che debbano essere sempre più diffuse, perché come ho avuto modo di dire anche quando ho portato il saluto della direzione regionale, del direttore regionale in particolare all'assemblea, è importante per l'azienda la consapevolezza di ciò che il lavoratore può avere, può attendersi in questo campo, per programmare la propria attività e per dialogare meglio con minore conflittualità, possibilmente con nessuna conflittualità, perché se si ha consapevolezza di quelli che sono i diritti di tutti, si ha un dialogo maggiormente fluido. Abbiamo colto il ruolo fondamentale di IMSS in questa materia, IMSS che quest'anno celebra anche un anniversario molto importante. Sì, sì, è vero. IMSS quest'anno festeggia, perché siamo molto contenti di questo, è un termine che quasi quasi mi piace di più di celebra, perché per noi è importante, festeggia i 120 anni dalla sua nascita, nascita che noi collochiamo nel 1898, quando l'Italia vede, magari con un po' di ritardo rispetto ad altre realtà, vede la nascita della Cassa Nazionale per la tutela dell'invalidità e della vecchiaia degli operai, completamente diversa come impostazione, una Cassa volontaria, a cui contribuiva, alla cui solidità finanziaria contribuiva lo Stato e poi vi era un contributo anche dei datori di lavoro. L'IMS, come oggi è strutturato, nasce soltanto nel 1933, però è importante l'evento del 1898, la nascita della Cassa Nazionale per gli Operai, perché è la prima forma strutturata in Italia di tutela di alcune situazioni delicate, sicuramente, nella vita dei lavoratori. Dal 1898 ad arrivare al 1933 è un susseguirsi di ampliamenti e oggi l'IMS è una realtà che a decorrere dal 2012 ha veramente l'ha affidata, pressoché totalmente, la gestione della previdenza in Italia restano autonome soltanto le casse professionali. L'IMS non si occupa solo chiaramente di previdenza, si occupa anche di assistenza, si occupa di contribuzione che è l'altro lato delle forme, poi delle prestazioni che noi forniamo ed è sicuramente un ente a tutto tondo. Iniziative ne stiamo portando avanti molte, non dal nulla, perché rientra tutto nella diffusione della cultura previdenziale di cui abbiamo parlato, però chiaramente in quest'anno facciamo iniziative, poniamo in essere iniziative particolari. Abbiamo rafforzato l'impegno nei confronti delle scuole, delle università, nei confronti delle aziende. Celebreremo molto probabilmente all'inizio di ottobre con un apposito convegno a livello regionale che si terrà a Venezia, che stiamo organizzando con personalità che affronteranno il tema dell'IMS nel territorio, questa ricorrenza, quindi tutto questo per dire che noi ci siamo. Noi non entriamo solo nelle case della maggior parte dei nostri interlocutori, cittadini, ma non solo, a volte anche non cittadini, però persone che si rivolgono a noi, perché noi dobbiamo dare loro qualcosa. Noi veramente ormai abbiamo una platea di riferimento importantissima, ci teniamo però a mostrare quello che siamo, quello che facciamo nel territorio, perché il dialogo è importante. Nell'intervento che abbiamo fatto questa mattina abbiamo parlato certamente dell'evoluzione del sistema pensionistico italiano, un sistema che è stato chiaramente interessato da numerosissime leggi di riforma, sono state circa 25 in questi ultimi 25 anni e sono stati tutti interventi che hanno inteso riordinare il sistema pensionistico, armonizzare i regimi pensionisti e fondamentalmente sono intervenuti in alcuni ambiti, ambiti che sono legati fondamentalmente al processo di invecchiamento della società che necessariamente doveva modificare alcuni requisiti. I requisiti che sono stati modificati fondamentalmente sono legati all'aumento dell'anzianità contributiva e all'aumento del requisito anagrafico dell'età, non solo, ma sono intervenuti poi anche modificando il sistema di accesso alla pensione e però sempre tutelando alcune categorie particolari, perché nel sistema sono inciti alcuni elementi di garanzia e tutela, quindi oltre ad aver innalzato certamente i requisiti di base, di età e di anzianità contributiva, poi hanno affiancato alle normali prestazioni pensionistiche anche alcuni istituti tipo APE sociale, APE volontari o hanno previsto dei requisiti ridotti e migliorativi rispetto alla normativa attuale che riguardano per esempio i lavoratori precoci, quindi vengono salvaguardate e tutelate alcune particolari categorie di lavoratori adibiti appunto a lavori gravosi o usuranti con una diminuzione dei requisiti fondamentalmente di accesso alla pensione che hanno costituito le principali novità che hanno affiancato praticamente dal 2017 il normale accesso alla pensione che invece si fa con requisiti previsti dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata, che rimangono comunque i principali istituti a disposizione, accanto a questi esiste la possibilità di andare in pensione come ad esempio con APE sociale che non è una pensione, è un'indennità a carico della Fiscalità Generale in presenza di almeno 63 anni con almeno 20 anni di contributi, quindi sono previsti dei requisiti agevolati per consentire un accompagnamento alla pensione. Nel caso invece di lavoratori precoci che sono fondamentalmente lavoratori che hanno iniziato un'attività lavorativa molto giovane prima del 19esimo anno di età, in questo caso viene erogata definitivamente una pensione. Queste sono le principali forme di tutela, accanto a questo poi si sta sviluppando anche l'APE volontario, APE volontario che però non è un'indennità, non è una prestazione pensionistica, è semplicemente un prestito finanziario concesso da un istituto di credito. Questo fin tanto che non viene raggiunto il requisito pensionistico definitivo per la pensione di vecchiaio o per un altro tipo di prestazione pensionistica. In questo caso l'istituto entra, entra semplicemente perché deve certificare l'accesso in presenza di particolari requisiti. Diciamo che oltre all'APE sociale che è una particolare prestazione che viene erogata fino a un massimo di 1.500 euro ed è prevista per alcune categorie di lavoratori, lavoratori disoccupati, disabili o che assistono disabili o lavoratori che invece sono adibiti a attività gravose, quindi particolari attività sono oggetto sia di APE sociale, quindi questa particolare indennità e accanto a questa sono previste per le stesse categorie di lavoratori, quindi disoccupati, disabili o che assistono disabili o che effettuano particolari attività lavorative, anche questa prestazione di tipo particolare che viene erogata con 41 anni di anzianità lavorativa se in presenza di un anno di lavoro, 52 settimane prima del compimento del 19esimo anno di età. In questo caso c'è un beneficio chiaramente rispetto alla pensione in azianità normale di 42 anni e 10 mesi per l'uomo e di 41 anni e 10 mesi per le donne, chiaramente di un anno e 10 mesi o di 10 mesi, in questo caso quindi è possibile accedere al pensionamento con questo particolare requisito ridotto. Dobbiamo fare una differenziazione per quanto riguarda il genere, la differenza per l'approccio alle pensioni nell'uomo e nella donna. Sì, questo è un argomento specifico della normativa italiana, fondamentalmente da sempre il requisito per l'accesso alla pensione dell'uomo e della donna è stato differenziato, le donne normalmente andavano in pensione molto prima, penso da prima degli anni 90 andavano in pensione anche a 55 anni o a 60 anni. Dopo gli anni 90 questi requisiti sono stati modificati, fondamentalmente dal 2012 quindi con la legge Fornero il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione si è venuto pian piano unificando, pertanto dal 2012 al praticamente il 2017 i requisiti previsti per la donna e i requisiti previsti per l'uomo sono diventati gli stessi, infatti dal 2018 quest'anno noi abbiamo 66 anni e 7 mesi comuni sia per l'uomo che per la donna. Certamente la pensione di vecchiaia, cioè quella che viene erogata al compimento di una certa età e in presenza di un'anzianità contributiva da lavoro minima di 20 anni, che sono i requisiti identici sia per l'uomo che per la donna, hanno subito nel tempo un incremento superiore a quello di altri tipi di prestazioni. Se oggi quindi esiste la pensione di vecchiaia sia per uomo che per donna, che prevede il raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi e un minimo di 20 anni di anzianità contributiva, è rimasto per la donna un particolare aspetto, quello dell'opzione al regime sperimentale cosiddetta opzione donna, che prevede per il momento le donne che hanno raggiunto i 57 o 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 2015, la possibilità di accedere al pensionamento quindi con requisiti diversi dai 66 anni e 7 mesi ad esempio. E questo è un regime sperimentale che deve essere chiaramente confermato, che viene monitorato con delle risorse e dei fondi appositamente stanziati. Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, che è l'altro trattamento pensionistico specifico previsto, in questo caso vi è una differenziazione. Se per l'uomo sono previsti 42 anni e 10 mesi, per la donna sono previsti 41 anni e 10 mesi. Questi requisiti periodicamente ogni due anni da questo punto verranno incrementati dei dati che ci saranno forniti da Istat, normalmente sono alcuni mesi, 2-3 oppure 5 mesi come è successo il 2019, i prossimi incrementi biennali però non potranno mai superare i 3 mesi. Grazie a tutti!